Molte persone in questi giorni mi stanno contattando in merito alla emanazione di linee guida in materia di pubblicità sanitaria da parte della regione Umbria. Linee guida che vengono a palesare tutta una serie di limitazioni che molti colleghi erano convinti non ci fossero o non sapevano neanche che ci fossero. A questo proposito bisogna precisare che in realtà probabilmente molti colleghi non erano a conoscenza del fatto che delle linee guida comunque c'erano già ed erano già state emanate, non so onestamente se in tutte le regioni, in tutte le province, da tutti gli ordini, sicuramente ci sono delle linee guida nazionali già emanate da tempo, poco dopo mi sembra l'emendamento Boldi del 2018 e poi tante cao hanno espresso le loro convinzioni in materia di regolamentazione della materia pubblicitaria in ambito sanitario. Ora il problema che c'è in questo tipo di regolamentazione è che non c'è un consiglio che posso dare io personalmente a nostri corsisti, ex corsisti o futuri corsisti o comunque colleghi semplicemente che sapendo che sono tristemente noto per aver già avuto tre provvedimenti disciplinari, procedimenti disciplinari, in realtà il terzo deve ancora tenersi tra qualche giorno e quindi pensano che io la possa sapere più lunga. In realtà io credo di sapere abbastanza bene quello che non si può fare, diverso è accettare che vengano posti queste limitazioni. Il problema in Italia fondamentalmente è che abbiamo delle leggi che vengono fatte sempre con i piedi e si dedicano tre righe all'esprimere il concetto e poi non si specifica il concetto, quindi si utilizzano parole del vocabolario italiano come nell'amendamento Boldi, il fatto che la pubblicità non possa essere promozionale o suggestiva, suggestionale, a seconda di dove la si trova scritta e questi termini non vengono spiegati e quindi viene poi lasciata la patata bollente agli ordini che da questo punto di vista mi verrebbe da dire poverini si trovano a dover effettivamente far fronte a una miriade di pubblicazioni in materia di pubblicità sanitaria dove inevitabilmente si trovano poi a fare delle ingiustizie, delle preferenze, delle cose perché qualcuno viene sanzionato, qualcuno no, qualcuno non arriva sul tavolo di giudizio perché la pubblicità magari non è arrivata, non è stata segnalata, non è stata individuata. Teniamo poi presente che ad oggi c'è talmente tanta produzione in termini di quello che può essere considerata pubblicità, per esempio su Facebook uno fa un post del compleanno di un assistente o fa un post per dire oggi è la festa della donna, auguri a tutti, è pubblicità o meno? Probabilmente sì, stando a leggere le linee guida in materia pubblicitaria appunto della regione Umbria, anche questa cosa qui non essendo attinente all'oggetto dovrebbe essere sanzionata. Il problema è che pur essendo lodevole l'idea di emanare delle linee guida che rendano chiari finalmente non tanto quella che è la legge, ma almeno dire guardate io non so come sia la legge perché è uguale per tutto il fatto che sia incomprensibile, noi l'abbiamo interpretata così, siamo noi che dobbiamo giudicarla, quindi sappiate che la giudicheremo in questa maniera. Io da questo punto di vista trovo che le linee guida siano lodevoli, ma non dovevano essere secondo me emanate da province separate, da regioni separate, doveva esserci il legislatore che primariamente faceva una legge lunga che comprendeva per esempio tutto quello che è stato scritto adesso nelle linee guida della regione Umbria. Va bene, ci abbiamo deciso che questa è la materia, i limiti devono essere questi, che li si condivida o no, se fanno parte di una legge nazionale che è stata emanata e che è uguale per tutti, allora benvenga e accettiamola, cioè io posso non essere d'accordo, ma se so che chi è in Puglia, chi è in Campania, chi è in Sardegna, chi è in Piemonte, alla fine ha le stesse limitazioni mie, allora si gioca tutti la stessa partita e quindi la cosa mi dà decisamente meno fastidio, quindi è diverso se mi dicono tu non ti puoi chiamare Clinica inventandosi a parer mio una definizione che non esiste da nessuna parte, dando per scontato che la gente la conosca e poi scoprire che però Clinica in tante altre parti d'Italia si possono chiamare in tanti, addirittura nelle linee guida della regione Umbria non ci si può chiamare centro, ma chi ha mai detto qual è la definizione di centro, ma dove sta scritto che cosa vuol dire centro, non vuol dire centro, cioè sono delle cose che sono inaccettabili perché vengono puniti alcuni e altri no, quindi cosa succede? Che in questo contesto inevitabilmente gli ordini, pur facendo quello che sono chiamati a fare, cioè legiferare in materia di pubblicità e controllare in materia di pubblicità, a loro direi insindacabile giudizio perché questo dice la legge, che sono chiamati loro a giudicare e se ne prendono loro la responsabilità, poi colui a cui è contestata la pubblicità può ricorrere in secondo grado alla CEPS a Roma, viene rigiudicato da una commissione diversa che non è fatta di competitor sul territorio, però esperienza mia personale non è che in questo ricorso si ottiene la barrogazione della sentenza, cioè normalmente viene ritrattata, magari diminuita un piccolo, un pizzico, ridiscussa, ma diciamo che una volta che uno è sanzionato sa che la sanzione in qualche maniera verosimilmente operativa diventerà, perché poi si può anche procedere in Cassazione, ma dopo il secondo grado della CEPS la sanzione diventa operativa, quindi sì la Cassazione poi può annullarla completamente e allora quelli possono essere problemi per l'ordine che l'ha combinata, però altrimenti più o meno così vanno le cose, quello che posso dire è che verosimilmente una volta che avete preso una sanzione, prima che diventi operativa ve ne dimenticate, perché ce ne sono talmente tante sul tavolo della CEPS che io l'ultima l'ho presa nel 2019 e non ho ancora notizie di che fine abbia fatto a Roma. Per cui quali sono le mie considerazioni? Le mie considerazioni sono che se mi si chiede il consiglio cosa devo fare, è giusto che mi dicano che non si debbano fare per esempio le video recensioni? Il mio parere personale è no, io adesso ho avuto nel richiamo che ho fatto e fatto deliberatamente un richiamo per il fatto di aver fatto anche delle video recensioni, perché per anni non le ho prodotte, Federico Tirone, mio socio, le ha continuate a raccogliere, anche con un dispendio di energie, di forze, economico e tutto, e a un certo punto mi sono accorto che in mezza Italia tanti colleghi le fanno e le fanno anche con successo e che funzionano, e mi sono chiesto ma per che motivo una recensione fatta su Facebook, una recensione fatta su Google My Business, che hanno anche tanti membri delle CAU di tutta Italia sui loro siti, sui loro Google My Business eccetera, perché quelle vanno bene che non sono verificabili e quindi potrei essere scritte io, averle fatte scrivere a mia mamma eccetera, e invece quelle dove io metto la faccia del mio paziente che dice di sua sponte, senza aver avuto sconti, senza aver avuto niente, questo può essere verificabile, la sua esperienza, che alla fine è quanto di più informativo ci sia, ho capito che è promozionale, ma ci stiamo nascondendo dietro un dito, nel senso che alla fine della fiera, se uno fa una pubblicità, la pubblicità la fa per portare gente nella propria struttura, nelle linee guida dell'Umbria vedo scritto che praticamente è promozionale tutto quello che è mirato a portare gente nella struttura, allora dimmi che è vietata la pubblicità e facciamo prima, cioè per me era più che è chiaro che l'interpretazione dei termini promozionali e suggestionali, se si voleva evitare di vietare tu cur la pubblicità in senso assoluto, dovesse essere molto limitativa e concepita nella sua accezione peggiore, quindi se si vuole conferire il decoro, la professione, tutte queste cose, cioè alla fine quello che si poteva fare perché era la cosa più oggettivamente verificabile era dire sono vietate le promozioni, quindi le offerte, gli sconti, la visita gratuita eccetera, che è facile oggettivo da individuare e nel termine suggestivo bisognava trovare il modo di dare una definizione che rendesse oggettiva la valutazione di questo termine, perché altrimenti tutto quello che scriviamo se l'ordine si sveglia e dice secondo me questo non va bene, costringe la persona a dire vabbè devo andare a spendermi soldi di avvocato e andare a farmi il ricorso e prendermi poi la sospensione, perché alla fine rimane sempre il giudizio soggettivo di una commissione fatta di competitor sul territorio che è un giudizio diverso a seconda delle commissioni di tutta Italia, quando questa cosa viene presa dall'antitrust e viene segnalata inevitabilmente comporta delle lettere di richiamo agli ordini, nel nostro caso è già successo ed è già successo in altre parti dell'Italia, perché sempre comunque l'antitrust coglierà la infattibilità e la limitazione di questa cosa qui, cioè non è possibile che si crei una differenza nella libera concorrenza a livello italiano in maniera così marchiana, perché se voi guardate le linee guida delle varie province sono tutte diverse, quella della regione Umbria che è il motivo per cui sto facendo questo video la trovo molto limitativa ma anche molto chiara, quindi dal punto di vista tecnico se quelle fossero le linee guida uguali per tutta Italia e tutti gli ordini le applicassero, magari auspicherei anche dicendo già quale sarà la sanzione per ogni punto, cioè mi violi il discorso della promozionalità, 5 giorni di sospensione per quello, almeno uno sa già anche dire guarda ho violato quello, ho violato l'altro, più o meno so già anche cosa mi daranno e so già che in Italia più o meno sarà sempre uguale, però il lasciare competitor sul territorio la soggettività di interpretare delle parole che non sono state specificate e decidere loro qual è la legge, io la trovo una boiata drammatica, clamorosa e lesiva della libera concorrenza e a un certo punto dobbiamo decidere se accettarla e sottoporci e dire, sottometterci e dire sì va bene accetto questa visione qua per il quieto vivere oppure se provare a combattere, io devo dire onestamente ho scelto la seconda via e quindi da qualche mese ho detto a Federico senti basta mettiamo queste video recensioni perché effettivamente è un sopruso dire che non si possano fare, cosa viene richiamato delle video recensioni? viene richiamato il fatto che siano fondamentalmente suggestionali perché quasi sempre ovviamente uno non fa la recensione del paziente incazzato che quando se ne va via gli si dice scusi la posso fermare un attimo che ci dice perché se ne sta andando via incazzato così la metto sul sito per par condice, è ovvio che quello non venga fatto ma nessuna persona si aspetta di vedere una recensione dove la persona parla male della struttura in maniera oggettiva, io credo che le persone medie a livello italiano abbiano un'intelligenza minima per capire che la recensione per forza è promozionale che sia scritta o che sia video ma la recensione più veritiera, più oggettiva, più trasparente che ci sia è proprio quella della persona che esce e dice alle altre persone come si sono trovate quindi dal punto di vista dell'informazione il mio ordine per esempio dice non c'è un'informazione c'è soltanto la persona che dice cose come si è trovata lei e quindi suggestionale basta ma no cioè per il paziente non c'è niente di più informativo che avere un'altra persona che gli dica come si è trovato a fare quello che lei è in dubbio se fare o no io stesso volevo fare l'operazione degli occhi che non ci vedo una mazza sono andato a fare la visita e anelavo di trovare un sito dove ci fosse gente che scriveva le recensioni e l'ho trovato solo che in ambito oculistico non poi l'operazione non l'ho fatta però a parte questo il sito dell'oculista era tutto quello che si poteva essere divietato in ordine pubblicitario eppure io che sono un medico ma sono anche un utente in quel caso lì l'ho trovato utilissimo e non me ne frega niente se hanno detto che sarà ingannevole che avevano detto che il giorno dopo potevi andare a lavorare poi quando sono andato laggiù mi hanno detto e no sarebbe meglio 15 giorni perché col lavoro che fa c'è l'aerosol che può infettare poi il lavoro eccetera non è che mi sono sentito ingannato ho detto guarda che roba faccio un esposto eccetera era una pubblicità completamente fuori dalle regole di qualunque linea guida sicuramente suggestionale promozionale pure io da utente l'ho apprezzata e non mi sono sentito ingannato eccetera quindi diciamo che per gli ordini prendere la videorecensione e dire che suggestionale promozionale una loro decisione e non veramente io trovo un sopruso decidere che quello non funziona invece la recensione su facebook se la fate il paziente che ha andato di sua spontanea iniziativa lì allora va bene ma come fai a verificare se il paziente ci ha andato di sua spontanea iniziativa io posso soldare tutti i miei pazienti e dire quando torno a casa vada a farmi la recensione così si fa effettivamente su google e facebook e se voglio posso anche pagarla per questo come fa l'ordine a capire se quella cosa è stata fatta o no se è stata apprezzolata o meno non c'è modo di capirla e quindi è per quello che dico è inutile fare delle regole che poi non sono verificabili e andare a fare dei trattamenti diversi a seconda di cosa ti sta più simpatico ti sta meno simpatico a un certo punto o decidi sono vietate le recensioni e basta e devi avere il coraggio di fare una cosa del genere ma farla a livello nazionale oppure non ti metti a fare però se la recensione è video però se il paziente però se non è il paziente però se la persona è conosciuta e invece è diverso se la fa su facebook se la fa su google c'è questa roba qua è follia è follia e mette le persone i colleghi nella condizione di avere una concorrenza sleale in italia perché non siamo sullo stesso territorio nazionale attualmente per come funziona il mondo può essere che uno prenda l'aereo e che se ne vada a fare un carico immediato dall'umbria al piemonte quindi io considero competitor diretto anche un collega umbro per un discorso che il fatto che magari io posso fare pubblicità una cosa cui lui non può fare pubblicità quindi questa cosa qui è più che palese che se ci unissimo tutti quanti di nuovo per l'ennesima volta a fare esposti all'antitrust per mettere un pochettino di chiarezza in questa cosa qui secondo me si andrebbe a rifermare di nuovo questa follia che sta imperando cioè avere delle leggi che scrivono quattro righe dei codici deontologici che sono abbastanza vaghi e poi dare delle definizioni dicendo è ovvio che sia così no non è ovvio che sia così il termine clinica non sta scritto da nessuna parte che significa il fatto che devi avere la degenza notturna non c'è quella definizione a livello italiano da nessuna parte e quindi non mi interessa se poi un ordine dice per noi è così ma non sei tu l'ordine l'organo legiferante che decide come le persone devono capire una parola perché del resto se tu mi dici che non va bene perché ingannevole per la popolazione dai per scontato che la popolazione quella definizione la conosca e pensa e pensi che sia che voglia dire quello ma nessuna persona italiana nessun utente e se gli si dice cosa vuol dire clinica ti dice vabbè certo lo sanno tutti la degenza notturna vabbè certo lo sanno tutti le operazioni che può fare la chirurgia complessa la gente non lo sa quindi mi puoi dire non ti puoi chiamare clinica ma non puoi metterla come motivazione sotto ingannevolezza cioè che non è ingannevole se tu ti chiami clinica è ingannevole se dice esperto in implantologia poi devi dire esperienza in ma che cavolate stiamo dicendo ma cos'è sta il ragionamento qua ma chi le ha scritte queste cose qua ma sono veramente per quello che dico certo tu puoi anche scrivermelo lo apprezzo se fosse uguale per tutti a livello italiano vabbè accettiamo così la legge è quella così come una volta si diceva non puoi farla la targa è 40 per 40 con i caratteri di 8 centimetri va bene ma deve essere uguale per tutti a livello italiano quindi una cosa del genere secondo me noi non possiamo accettarla come categoria perché anche a chi fa comodo anche chi non è d'accordo e dice no per me la pubblicità andrebbe vietata a me va benissimo cioè ci può stare qualunque visione compresa quella che la pubblicità debba essere vietata però deve essere uguale per tutti una roba del genere con linee guida che escono e mettono le persone nel dubbio devo accettarla non accettarla però salzano so che sta facendo le video recensioni ah ma lui l'hanno richiamato ah però c'è l'altro che in sardegna le sta facendo e nessuno gli ha detto niente perché questa roba qui non ci può essere io a un certo punto ho detto me ne frego faccio quello che penso che sia da fare la le leggi in materia pubblicitaria le conosco bene lo interpretate come io penso sia etico fare non credo di aver mai fatto pubblicità non etica se abbiamo avuto molto successo per il numero di pazienti che vengono da noi vuol dire che le persone vengono e non rilevano l'ingannevolezza non rilevano delle cure fatte male ma hai detto che hai fatto i denti belli e bianchi perché li faccio belli e bianchi se no non avrei lo studio pieno evidentemente i denti sono belli e bianchi ed è veritiero oggettivo verificabile trasparente tutto quello che si può dire in pubblicità non è suggestionale ma chi l'ha detto che è suggestionale è vero sono belli sono bianchi ah per me non sono belli è una babilonia totale c'è una roba veramente inaccettabile per come la vedo io siccome mi sono rotto di questa roba qua me ne frego mi prenderò cinque anni di sospensione quando me li danno tutti assieme pre pensionamento anticipato si spende un po di avvocati adesso nell'ultimo procedimento non mi faccio neanche più difendere dall'avvocato e vada come vada sicuramente combatteremo tutte le lotte possibili immaginabili per andare a chiedere danni in caso in cui la la cassazione poi dicesse che non va bene nel caso in cui l'antitrust prima o poi ci desse ragione però secondo me serve un'organizzazione un movimento a livello nazionale per far cambiare queste leggi qua purtroppo guardato oggi cosa serve per andare a fare una legge nuova servono 50.000 firme noi siamo 60.000 dentisti di cui penso 45.000 50.000 odieranno la pubblicità e stanno dalla parte degli ordini dell'Andi dell'Aio di tutti quelli che si frappone sono abbastanza ostativi notoriamente a queste regole e quindi diventa difficile riuscire a fare una nuova legge a questo proposito mi fa sorridere come nelle linee guida dell'Umbria si sia specificato bene sotto la visita gratuita e il patrocinio di presidio sanitario che se la visita gratuita e il patrocinio di presidio sanitario è fatto nell'ambito di campagne nazionali senza fine di lucro allora va bene perché perché anni fa avevamo fatto notare che il mese della prevenzione dentale della me era sponsorizzato dalla menta dent e che era un patrocinio di presidio sanitario che poi su quello si faceva il suo il suo guadagno d'immagine ed era anche un modo per tutti i dentisti Andi di avere la possibilità di sponsorizzare la visita gratuita e non andava bene infatti si era adeguata l'Andi a livello nazionale non ha più messo visita gratuita si era aveva anche ritracciato su un post che era stato che era stato esposto a livello nazionale fatto sta che adesso la regione si riserva Umbria si riserva di nuovo la possibilità di dire che invece va bene così perché se vengono fatte nell'ambito di cose che sono patrocinate dall'Andi o che vanno bene ai membri della cao di quella regione lì allora va bene e quindi si fa l'eccezione no le regi non possono funzionare così se non si può dire gratuito non si può dire mai e non va bene che qualcuno possa dire a noi facciamo i denti gratis ai bisognosi no quelle pubblicità che ti stai facendo anche se stai facendo una cosa lodevole al se è vietato dire gratuito è vietato dirlo sempre diventa promozionale anche quello c'è uno che di qua si può chiamare professore e l'altro no se una contratto lo deve dire l'altro che ha scritto le nostre specialità così la gente è ingannata che dici specializzazione ma no ma la gente non lo sa questa cosa qui se scrivo le nostre specialità e scrivo sotto conservativa nessuno pensa che sono specializzato in conservativa e soprattutto non gliene frega niente alla gente non gliene frega niente se non sono specializzato in conservativa se esiste la specializzazione in conservativa sono leggi ridicole è un ambito regolamentato malissimo però devo finire questa ventina di minuti che ho fatto in materia di pubblicità dando un consiglio tutti quelli che mi dicono ma devo accettarlo non devo accettarlo no per me non dovete accettarlo la video recensione se vi dicono che viola l'articolo 10 del codice dentologico non lo viola se avete il consenso informato della persona perché quello fa da giusta causa per poter violare la privacy del paziente soprattutto se nella video recensione il paziente stesso che la viola ma possiamo evitare a una persona di dire se ha perso un molare ha messo un impianto se lo vuole dire che lo dica cioè è lui che sta parlando di se stesso sarà già che glielo posso vietare quello lì fa da giusta causa è ovvio che non state violando l'articolo 10 del codice dentologico la promozionalità la suggestionalità forse la state violando ma tanto quanto qualunque altro tipo di recensione quindi siccome da questo punto di vista qua secondo me invece state facendo un qualcosa che è veritiero oggettivo trasparente verificabile tutto quello che invece ci richiedono le leggi della pubblicità per me la video recensione si può fare soprattutto se sapete che in italia in tanti posti si può fare allora quello secondo me non è accettabile a stefano secondo te posso fare la video recensione secondo me sì però se non vuoi essere chiamato perché io ho detto secondo me sì e sono stato richiamato adesso vado a farmi il provvedimento disciplinare procedimento disciplinare per cui se volete evitare di avere grane è molto semplice avete delle linee guida credo che siano più che chiare vi adeguate a tutte quelle che sono quelle linee guida lì e siete a posto cioè quindi è inutile dire stefano secondo te cosa devo fare se non vuoi essere richiamato e sanzionato e non vuoi giocartela al richiamo che viene fatto successivamente adeguati devi solo capire se ti piace di adeguarti a queste cose che sono oggettivamente dei soprusi quindi quello che vi posso dire è semplicemente questo se volete lottate ma sappiate che verrete sospesi e secondo i membri della cavolo siete anche giustamente perché vi dicono io vi ho avvertito di come interpretavo le leggi penso che sia ingiusto che dei competitor sul territorio ci dicano come si debbano interpretare delle leggi fumose detto questo adeguatevi se non volete essere sospesi se no fate come facciamo noi e cercate di combattere questa battaglia sul piano nazionale del resto se verremo sospesi in 10.000 sappiate anche che i ricorsi alla CEPS si fermeranno tutti lì perché non hanno sicuramente tempo di andare a leggere ecco se fate le difese fate le lunghe così come le faccio io 20 pagine che nessuno ha voglia di leggere così rimangono tutte sull'ordine centrale lì e alla fine non diventeranno mai esecutive fatevi i vostri calcoli se volete andare in pensione tra 5 anni violate quello che volete violare fate le video recensioni perché prima di 5 anni verosimilmente a casa non starete cioè la butto un po sul ridere però vi dico alla fine la cosa triste è questa cioè è la consapevolezza che quando un competitor sul territorio si sveglia per segnalazione o perché ha fatto delle indagini lui e decide che ti richiama ha deciso che tu devi spenderti 20.000 euro di avvocato da lì ai prossimi settimane ai prossimi anni a suo insindacabile giudizio perché perché l'abbiamo detto noi le nostre linee guida sono queste se secondo voi è giusto questo vi lascio con questa amara considerazione un saluto a tutti e ciao ciao